È certamente importante anche per lui capire da vicino l'imponenza e l'importanza di queste opere che ricordiamo sono in realtà una legacy di quelli che erano i mondiali 2021. Maestranze schierate per l'arrivo del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, siamo a Tai di Cadore, questo è il Varco 2, quello che vedete alle nostre spalle è l'imbocco della galleria Cantiere Ovest della variante di Tai di Cadore. Il ministro è in provincia di Belluno, una mattinata molto intensa per i sopralluoghi nei cantieri delle opere olimpiche. Alla spicciolata sindaci e autorità attorno alle 11 si sono diretti all'imbocco della costruenda galleria Tai, opera che in Cadore attendevano per i mondiali di sci del 2021. Ora si deve correre per arrivare all'appuntamento olimpico senza ulteriori ritardi, con tutte le conseguenze del caso, fa sapere la sindaca di Pieve di Cadore in riferimento alle deroghe per i lavori notturni. Il sacrificio della popolazione chiaramente c'è perché è tutto interesse di Pieve di Cadore ottenere la realizzazione di questa variante in modo anche da far espirare la nostra frazione che è Tai, però d'altro canto i disagi sono inevitabili ma noi siamo sempre in contatto con Anas e oggi avremo modo anche di ribadirlo al ministro, la nostra posizione. Abbiamo fatto un'analisi delle attuali tre varianti di Tai, Valle e San Vito, i cui tempi anche da quel punto di vista sono rispettati, sono interventi che hanno una diversa modalità di esecuzione e ora diciamo che si sta correndo nonostante il tempo non abbia aiutato le imprese, però le cose stanno procedendo bene. Quanto al resto delle arterie del Bellunese, Padrina ha ribadito al ministro l'importanza della 203 a Gordina che rimane priorità di intervento, come segnalato in un incontro a Roma al Ministero lo scorso gennaio e poi ci sono le altre necessità del territorio, su tutte la strada di collegamento della Val di Zoldo e la Feltrina.